Intramontabili Manhattan Transfer, sold out ed ovazione al Teatro Giordano di Foggia per il quartetto di voci jazz più famoso al mondo. E siamo a Foggia per il grande successo del concerto unica data in Italia dei Manhattan Transfer al Giordano. Sentiamo Vito Marinelli. Non era mai successo prima che il capologo d'Auno fosse stato scelto come unica tappa italiana di un tour europeo così prestigioso come quello dei Manhattan Transfer, sul palco del Teatro Giordano per la rassegna Jazz Winter. Un salto di qualità per la direzione artistica del cartellone che è evidentemente riuscita a superare timori reverenziali in virtù di credenziali e organizzative ineccepibili. Ospitando uno dei gruppi vocali più longevi e famosi nella storia della musica di improvvisazione contemporanea in una serata stravenduta in ogni ordine di palco, platea compresa. Una formazione rimaneggiata negli ultimi mesi dopo la morte per infarto del fondatore e leader carismatico Tim Hauser, al quale gli altri componenti dell'ensemble hanno voluto rendere omaggio proprio qui a Foggia leggendo in pubblico una dedica in italiano da un telefonino. Un colpo di teatro, è proprio il caso di dirlo, che ha piacevolmente sorpreso il pubblico in sala. Il programma poi ha visto ripercorrere la lunga carriera artistica dei Manhattan Transfer, dai primi album degli anni 70 fino alla consacrazione internazionale con le produzioni di dieci anni dopo, ovvero Vocalis e Bob Duwop, il primo candidato ai Grammy per 12 categorie, record superato solo da Thriller di Michael Jackson.